Credete che qua in Bergamasca non ci sia più nessuno che sia proprio povero ma povero ma povero e ignorante nella paveta? Nessuno, neanche gli estracomunitari, i marocchini, i meridionali, nessuno. Invece no, ci sono due depravati di nome Peppi e Michele, amici di un certo Tenni che invece è stramiliardario, l'uomo più ricco dell'Italia, se non dell'Europa. Pensate, sono così ignoranti che non sanno, non sanno neanche leggere tutto l'alfabeto poverini e credono di sapere chissà cosa e questi verranno ripresi da noi stessi, cioè Peppi, Michele e Tenni che non si vedrà mai perché non lo abbiamo trovato e grazie a questo vi faremo capire quanto si appassionate la vita proprio nel casello a stare tutti i giorni in tenda. Proprio in maniera comica, diciamo. Tenni, pientala. Mi sono la nostra p***a che so, naturalmente, il Tenni pientala, anche il Tenni pientala non ce n'è. Mi faccio ammirati pure la bandiera della padagna. Adesso mi faccio ammirare, naturalmente. Eccola! Ciao! Ciao!